ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a sensei awakening video che registro per la seconda volta perché la prima volta mi ero dimenticato spento il microfono è stata una giornata particolare ragazzi ho fatto due live una separata dall'altra perché nel mezzo della prima live mi hanno chiamato dal lavoro ho dovuto chiudere ho dovuto chiudere la live rispondere al lavoro fare una cosa tramite team viewer riaprire la live registrare il video fatto su un macello assurdo e mi sono dimenticato di riaprire il microfono per cui perdonatemi ma non posso portarvi pull questa settimana però ve lo racconterò ve lo racconterò intanto partiamo un pochettino per ordine evocazione celebrativa cavalieri non registrati quanto la menano lunga evocazione nella quale voi al primo saint s che troverete e non è detto che lo troverete subito e non è detto neanche che lo troverete in generale però il primo saint di tipo s che trovate sarà un saint non doppione c'è un sente che voi fino adesso non avete trovato io nel video che avevo precedentemente registrato e anche durante la live avevo detto beh insomma a me un po me ne mancano mi servirebbero anche quasi tutti quelli che mi mancano gli unici due che proprio non vorrei sono nebula shun e yoga dorato il gioco mi ha sentito e mi ha dato yoga dorato proprio proprio lui proprio lui al quarto pull sapete che ne faccio sempre quattro e non di più ripeto mi dispiace non potervelo portare ma non avrebbe tanto senso farvi vedere un video dove io faccio così tutto il tempo senza che si capisca assolutamente assolutamente nulla comunque ho trovato ho trovato yoga dorato settimana prossima ve lo dico già subito al 99,999% ci sarà evil saga perché è già stato inserito nel codex quindi se volete risparmiare per un personaggio OP sappiate che settimana prossima arriva il personaggio OP eventi celebrazioni di metà anno perché questo gioco gli piace festeggiare il mesiversario come ai fidanzatini il sesto mesiversario di sensei awakening benedizione della reincarnazione di questo evento giuro non ci ho capito una fava di nulla adesso poi andremo a vederlo ma veramente vi giuro non ho capito niente partecipa all'evento e vinci il raimi del verme questo invece ragazzi è forte poi lo andiamo a vedere raimi del verme ragazzi è veramente forte emporio misterioso stagione 3 shop detto proprio terra a terra corpo a corpo pvp il grande tempio arriva sabato e domenica il pvp milì aperto il livello 11 dei titani e delle epic ruin andiamo al nostro gioco direttamente raimi lo vediamo dopo allora giusto dovevo farlo vedere meglio sono andato su carnevale celebrazione evocazione regali sono semplicemente le cose che vi vengono restituite ad ogni tot di evocazione che voi fate con le gemme advance vedete in questo caso io ho già fatto le mie canoniche 40 ho già riscattato tutte le ricompense fino alle 40 spesa totale queste invece sono i rimborsi per i copone 12 casi dello zodiaco è la terza volta che che torna a questo evento per ogni per ogni praticamente cavaliere dello zodiaco per ogni gold saint noi abbiamo tre missioni sbloccando tutte e tre le missioni scusate sbloccando tutte e tre le missioni otteniamo un saint del nostro cavaliere ci si ci partono automaticamente le missioni del cavaliere successivo e se non ricordo male possiamo fare tre missioni al giorno perché esatto perché queste missioni in tutto durano quattro giorni torniamo nel nostro menu e accediamo alla benedizione della reincarnazione ora ragazzi qua veramente il livello di traduzione in italiano siamo veramente a come si può dire a google translate vi leggo i tre punti che dovrebbero descrivere che poi in realtà sono quattro nel senso hanno fatto quattro punti che in realtà sono tre ve li leggo e capite già tutto voi punto 1 ogni benedizione i premi saranno attributi doppi casuali cosmo ok dopo che il valore della reincarnazione è pieno la prossima benedizione avrà un cosmo di sotto attributi cosmo ok dopo aver ottenuto la ricompensa il valore della reincarnazione verrà cancellato puoi continuare ora se voi avete capito qualcosa spiegatemelo giuro spiegatelo io ho solo capito che in teoria questa questa modalità dovrebbe servire utilizzando queste specifiche pietre a crearci dei cosmi con degli attributi secondari a nostro piacimento io in realtà ho già creato un colibri vedete ho messo rubavita rubavita ho fatto crea e con questa pietra da 1 e mi ha dato un colibri con punti salute punti salute quindi sinceramente probabilmente per avere gli attributi giusti dovremmo crearne di più frino quando non abbiamo un cosmo con questo genere di attributi è carina come cosa non è brutta queste pietre possono essere scambiate da un mercato che adesso andremo a vedere o comprate tramite lo shop però il funzionamento ripeto se andiamo a leggere la descrizione qua si capisce veramente 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 poco valutate voi se ne vale la pena perché comunque anche solo a scambiare le pietre con le gemme sono sempre dei pool al cui voi rinunciate quindi ognuno si faccia un po' i suoi conti come meglio preferisce siamo adesso nella nostra sezione evento il primo che troviamo in realtà è già attivo da qualche giorno da tre giorni più o meno e le matriosche dei saint è bellissimo ma a quest'ora credo che le avrete fatti più o meno tutti abbiamo delle varie missioni da completare ad ogni missione riscattiamo un'apertura di una matriosca e apriamo un tot di bamboline dedicate ai saint io ad oggi ormai le ho già fatte tutte vedete che anche i premi li ho riscattati tutti l'ultimo premio tra altre cose non è brutto perché mi ha dato anche uno shura proprio uno shura del capricorno non uno shard uno shura del capricorno e non so se sono fissi per tutti i premi se variano o che cosa fatto sta che mi è piaciuto come evento ricarica dei 5 giorni questo niente va a shop se voi spendete 15 euro al giorno per i prossimi 5 giorni alla fine tra le varie ricompense che vi daranno che sono quelle che vedete più quelle dei bauli sottostanti ottenete anche un tomo per le abilità scambio tempo limitato dai 6 mesi il mercato che vi dicevo prima per le gemme dell'evento dei cosmi più tutti i vari screen per il repair cloth dei saint attualmente disponibili che dovrebbero essere quelli dorati dovrebbero essere quelli di shura e quelli di virgo esatto più quello viola che è generico e il solito scambio del moltiplicatore per 2 o per 4 per le ricompense degli eventi degli eventi classici un nuovo negozio feste semestrali con delle skin per ade poseidone per shion per canon caspita quella di canon mi servirebbe anche per saga per kiki e i due cornici che vabbè ragazzi se vi piacciono bene hanno rimesso la cornice anno nuovo 2020 vabbè se vale la pena spendere diamanti per le cornici ognuno poi deciderà autonomamente le skin sono belle ma si acquistano con i coupon quindi anche in questo caso tutta roba a pagamento modello del grande tempio ridateci il gettone del grande tempio negozio riscatti cristallo praticamente noi facendo le nostre attività giornaliere otteniamo queste queste medaglie che possiamo scarmare perché possiamo scambiare in questo specifico negozio gli shard di raimi del vermicello non mi ricordo raimi il vermi mi sembra sono penso quelli più consigliati ma insomma anche gli screen per le armature non fanno certo schifo io cos'è che mi dice che posso già riscattare dovrò togliere tutto e beh ok non parliamo dei 30 dei 30 shard del del dei tomi blu che praticamente equivalgono a un tomo blu infatti servono 140 medaglie non a caso accedi per riscattare informazione misteriosa è una specie di bonus login che vale oggi vale tra due giorni vale tra quattro giorni si aggiunge al bonus login mensile che noi già abbiamo vabbè l'oroscopo inverso ormai lo conosciamo serve per recuperare le skill dei cavalieri ai quali noi abbiamo fatto il repair plot per ridistribuirle una volta appunto che abbiamo fatto il repair plot prova del cosmo credo che siano le uniche missioni classiche tra virgolette di quelle inserite oggi supera i dungeon dei titani a qualsiasi livello 5 volte al giorno fai un upgrade del cosmo 3 volte al giorno fai un refine al cosmo 3 volte al giorno richieste di vigore in questo momento adesso me li riscatto subitissimo andiamo a vedere com'è questo vermicello intanto come ben vedete quello che vi accennavo prima hanno già inserito evil saga gemini malvagio qua l'hanno chiamato volendo potremmo già esaminarlo anche adesso però ragazzi poi settimana prossima non avrei nulla di cui parlare quindi me lo tengo per settimana prossima parliamo di raimi il verme che essendo un personaggio av finirà inevitabilmente per essere sottovalutato dai più me compreso fino all'altro ieri e dopo averlo visto effettivamente ho detto caspita carino il tipo allora attacco basic parte da un 80% di cosmo dana damage fino al 100% di cosmo damage è pochino attacca un nemico solo per volta non è questa la sua caratteristica principale la sua skill che consuma un punto attacco libera un gruppo di vermi che attaccano un'unità nemica infliggendo il 40% di danno cosmico i vermi hanno una probabilità del 20% di bloccare il nemico in una morsa mortale e qua ve lo dico subito questo termine è un po' interpretativo bloccare il nemico uno fa pensare che gli faccia saltare il turno tipo la catena di andromeda no semplicemente ci sono questi vermi che gli stanno addosso possono essere presenti al massimo tre gruppi di vermi contemporaneamente traduzione potete contagiare con i vermi tre saint avversari perché questa abilità è particolarmente bella perché attiva la sua passiva attiva la passiva è un gioco di parole che non mi stancherò mai di dire quanto sia strano allora parte da un 40% più 20% di possibilità di attaccare i vermi e arriva fino a un 60% di dasmo cosmico più 100% di probabilità di attaccare i vermi qua naturalmente più è alta questa skill meglio è perché la sua passiva il rubavita ruggente il bersaglio limitato dalla trappola dei vermi cioè quello che i vermi addosso subisce il 100% di cosmo damage ogni volta che lui agisce quindi lui agisce e si becca questo danno a prescindere Raimi recupera il 100% dei danni inflitti in salute e la salute in eccesso guarisce gli alleati danneggiati la guarigione verrà divisa ugualmente tra tutti gli alleati danneggiati esempio banale il saint avversario con addosso i vermi fa un attacco da 3000 punti Raimi guadagna 3000 punti salute con quei 3000 punti salute cura se stesso se avanza qualcosa quel qualcosa viene redistribuito tra i compagni che ne hanno bisogno parte dal 100% dei dasmi cosmici con il 100% di rumavita e arriva ad un 180% di danno cosmico con un 300% di rumavita se il saint nemico fa un danno da 3000 punti lui ne guadagna 9000 3000 sono pochi però per rendervi un attimino l'idea naturalmente sto basso con i numeri apposta in questo senso è un saint molto 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 interessante per essere un saint di tipo A ecco mi stavo dimenticando la cosa più importante i cosmi che gli danno noce saponaria occhio di aquila tenacity e colibri sono tutti cosmi che tendono a dargli una resistenza quanto più a lungo possibile tranne forse il colibri che è l'unico che aumenta attacco cosmico e velocità il resto è tutto incentrato sul farlo dargli quanti più punti vita possibile per farlo reggere a lungo nella formazione di prova del gioco voi non fateci molto caso questo è un saint abbastanza universale ci sta assolutamente in qualunque team loro qua te lo mettono in un team prevalentemente composto da saint B e A non vuol dire assolutamente nulla lui è un jolly dove lo mette testata tra le altre cose comunque la sua abilità consuma un solo punto di attacco al pari degli altri healer presenti nel gioco in questo momento come Castalia cioè Merin e come Katia dicevo Evil Saga lo vediamo settimana prossima ragazzi mi dispiace di non potervi farvi vedere i pull vabbè che non era molto ho fatto i miei canonici 4 pull 3 vuoti all'ultimo ho trovato appunto gol dei yoga spero che a voi magari sia andata meglio che abbiate trovato quello che effettivamente volevate che cercavate che vi mancava e tutto quanto per oggi era tutto ci vediamo a questo punto settimana prossima con Evil Saga o con le live ormai che sto facendo anche quasi quotidianamente su Sensei e in tempi di quarantena pace belli alla prossima ciao ciao Grazie per la visione!